Signore e signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da un video in cui parlerò di quella che è molto probabilmente la più geniale, la più riuscita, la più intelligente invenzione tedesca di tutta la stramaledetta seconda guerra mondiale. Se avete visto il breve clip di presentazione avrete molto probabilmente capito che sto parlando di questa, il Wehrmacht canister 20 liter, ovvero sia la tannica standard della Wehrmacht da 20 litri, eccola, meglio nota, nota ai più come jerrycan, ovvero sia la tannica del crucco perché prima che gli americani si decise, prima che gli americani e inglesi si decidessero a copiarla in massa semplificandone anche la produzione perché i tedeschi prendevano queste lamiere e le piegavano fino ad ottenerne le due metà e procedere a saldarla. Gli americani semplificarono grandemente il processo di produzione stampandole. Allora vi chiederete ma che cosa ha di speciale questa tannica che sicuramente conoscete voi tutti? Ora ci appare normale ma tenete presente che quasi più di 80 anni fa questa tannica fu un'autentica rivoluzione logistica, fu un'autentica rivoluzione per la logistica militare non solo tedesca ma mondiale. Prima dell'invenzione della jerrycan la Wehrmacht, le forze armate tedesche utilizzavano o normali latte o normali latte rettangolari o questo tipo di bidone triangolare, questo tipo di bidone qua. Eccolo questo qui. Questa era la classica lattina da 10 litri, queste erano le tanniche, i bidoni prismatici da 15 litri che erano triangolari. Eccone qua una foto pubblicitaria. Il libro si intitola Wehrmacht canister 20 litri è in francese e in inglese scritto da Philippe Leger e Stefan Aki, due ricercatori e storici francesi che hanno preso, si sono impazziti a ricostruire la storia della jerrycan che si sono impazziti anche a identificare ogni accidente di costruttore che le ha fabbricate. Dicevo la jerrycan una tannica semplice, razionale, una tannica che doveva costituire nelle idee del ministero, insomma nelle idee del Waffenamt, doveva sostituire i poco efficienti, i fragili bidoncini prismatici da 15 e 10 litri e gli scomodi bidoni da 200 litri che, insomma, gli scomodi fusti, gli scomodi barili da 200 litri. Il classico barile da 200 litri, eccolo qua, il barile da 200 litri tedesco. Questo qui, scomodo da trasportare, scomodo da impilare, scomodo da riempire, che imponeva lunghi tempi di decantazione per i liquidi, benzina, gasolio o acqua contenuti dentro, perché portavano sia acqua che benzina così. Si trattava, ripeto, si ebbe l'idea di creare questo fusto metallico, ecco, ripeto, ve lo faccio vedere. La conoscete tutti sicuramente, la conoscete tutti. Ideata nel 1939, la conoscete tutti, perché chiunque ce n'è una in casa, si può dire, chiunque la conosce. Anche le moderne tanniche in plastica come forma derivano dalla gerica. Praticamente è un, ripeto, un parallelepipedo di metallo pesante dai 3,8 kg ai 4,5 kg circa, a seconda del materiale. Alta, alta, 46 centimetri e mezzo, larga 34 centimetri e profonda e spessa 16 centimetri. Insomma, una idea geniale che aveva, in dubbi, ed enormi vantaggi rispetto alle classiche lattine quadrate, tipo quelle per l'olio che, tipo quelle per l'olio d'oliva che vedete nei supermercati. Innanzitutto, le maniglie, vedete queste maniglie saldate sopra? Queste maniglie saldate sopra garantivano un irrigidimento della struttura e permettevano, cosa non da poco, di impilare una sopra l'altra tre, quattro, a volte anche cinque file di queste simpatiche, di queste simpatiche tanniche. Idea non da poco. Altra idea geniale. La chiusura a camma, questa qua. Niente scomode vite, niente scomode viti da stringere, niente scomodi tappi da togliere o mettere e dalla tenuta quantomeno aleatoria, ma un semplice e geniale sistema di chiusura con la camma a leva. Si mette qua, si fa, ecco questa purtroppo è un pochino danneggiata, è una tannica del 1991 che come sapete, se avete visto il video prima, sapete che l'ho presa, me l'ha prestata il responsabile della cooperativa per cui lavoro, proprio per fare questo video. Quindi vedete un attimo. Il sistema è semplicemente questo, si piglia, si tira, si fa forza e la camma scorre, ecco, si apre e voilà, il tappo è aperto. Quindi può essere riempita e una volta riempita si prende e si chiude di nuovo, sempre con lo stesso sistema, con la comoda camma, in pochi secondi. Niente tappi da stringere, niente viti da stringere, niente rubinetti, solo e semplicemente il banale movimento di una leva a pressione che apre, notate, notate, ecco, guardate bene, è una cosa, l'uovo di colombo, ma chi è che ci aveva pensato prima? Nessuno. Guardate bene il movimento, così si chiude, eccola, così è ermeticamente chiusa, il tappo non perde, così è aperta, ripeto, purtroppo è un po' storto, quindi si fa un po' fatica, ma in realtà si apre quasi con un dito. Ecco, guardate, si apre, scorre leggermente, vedete cosa fa? Vedete? Questa è un'altra genialata perché permette al tappo di rimanere fermo quando è aperto in posizione, in modo da riempire la tannica con l'apposita pistola, con la pistola, insomma, con la pistola da distributore di benzina, se avete presente, si inserisce il tubo per riempire, si riempiono i 20 litri, si prende, si chiude e via, messa da una parte. Le maniglie, perché queste tre maniglie, questa maniglia tripla? Non ne bastava una? No, non ne bastava una, perché a questa maniera le tre maniglie triple consentono con sicurezza di appoggiare sopra, una sopra l'altra, due, tre, quattro, anche cinque file sui camion o sui vagoni ferroviari di queste tanniche che poi potevano essere scaricate comodamente, prese così, a questa maniera sono più comode da portare via. E inoltre questo tipo di maniglia, se si prendeva una stanga, un palo, una sbarra di ferro e quant'altro, la si infilava qui, due uomini potevano trasportare senza alcun problema quattro, cinque, anche sei di queste tanniche. Naturalmente per brevi ritratti, ma perché insomma 20 litri moltiplicato per sei si passa allegramente il quintale, quindi non è, diventa un peso da sostenere non indifferente anche se lo si sostiene in due persone. Perché questo simbolo qua sul fianco, perché sono presenti, è presente questo stampaggio di questo tipo sul fianco? Semplice, sono nervature di irrigidimento. Il modello originale della Jerry Ken, il modello originale del 1939, era questo, questo qua che vedete, vedete? Con queste nervature di irrigidimento, ma siccome era difficile, abbastanza difficile stamparle, si scelse questo motivo, questo motivo qua, quello che è presente sulla mia tannica, questo, questo motivo qua che garantiva comunque sia un irrigidimento della lamiera della tannica e che permetteva, come dire, di ottenere una maggiore robustezza dalla lamiera in acciaio con cui era fabbricata la Jerry Ken. Ripeto, ripeto una cosa, noi ora la conosciamo tutti questa, noi la conosciamo tutti, ma all'epoca questo attrezzo, cioè questo, fu veramente qualche cosa di rivoluzionario. I tedeschi la fabbricavano praticamente piegando la lamiera e saldandola. Gli americani quando la copiarono ricorsero semplicemente allo stampaggio più pratico, più facile, più economico per la produzione. E ne fabbricarono, gli americani ne fabbricarono a milioni anche loro, perché era molto migliore anche dei bidoncini prismatici delle latte da quattro galloni britanniche che perdevano una buona metà del contenuto e, come dire, si accasciavano una sopra l'altra se ne mettevi tre in fila una sopra l'altra. Questa genialata, chiamiamola col suo nome, questa genialata divenne realmente una delle cose indispensabili, ripeto indispensabili, per la Wehrmacht durante la Seconda Guerra Mondiale e divenne indispensabile anche per gli eserciti alleati. Un'altra grande genialata della Jerry Ken, ripeto, oltre all'apertura a camma, guardate bene, ve la rifaccio vedere di nuovo, guardate bene, questa volta anteriormente, guardate bene, guardate, praticamente questo, questo e questo qua sono i perni, guardate, praticamente si piglia, basta un dito, si solleva, ripeto, questa è un po' storta quindi si fa un po' di fatica, si solleva, si apre, si mette in posizione di sicurezza, notate l'interno del tappo rosso, notate l'interno rosso, si vede abbastanza bene, l'interno rosso della tanica. Qui purtroppo causa la luce, si vede un pochino male, ma qua c'è la cosa più intelligente, ancora un'altra genialata, di questa tanica, il tubicino disfiato, il cosiddetto tubicino antirigurgito. Voi avete presente quando si vuota, insomma, quando si vuota un bidone, quando si vuota una tanica, quando si vuota un contenitore che non ha uno sfiato, che cosa succede? Che il liquido fa giù, poi comincia a fare... insomma, fa il rigurgito, perché deve prendere aria per scendere. Il tubicino disfiato, che adesso vi faccio anche vedere perché c'è qui nel libro, eccolo qua si vede meglio qui perché le condizioni di luce sono decisamente migliori ecco questo è il tubicino antirigurgito che consentiva all'aria di entrare nella tanica e di far defluire più velocemente il liquido con un guadagno non indifferente in fatto di tempo e credetemi che in guerra il tempo è tutto perché una tanica così ecco questo sarebbe il bocchettone ecco vedete il bocchettone questi sono i due tipi diversi di di olio di di tubicino antirigurgito vedete questo tubicino consentiva il tubicino di sfiato consentiva di vuotare una tanica di gasolio di acqua o di benzina in poco meno di un minuto mentre mentre per i normali bidoni senza tubicino di sfiato per i normali bidoni prismatici o triangolari anche se contenevano meno liquidi ci voleva più tempo perché non avevano lo sfiato il tubicino di sfiato il tubicino di sfiato permetteva il tubicino di sfiato questo qui ripeto questo questo permetteva di vuotare la tanica in poco meno di un minuto e quando hai non una non due non tre ma 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 qualche centinaio eccole qua quando hai qualche centinaio di taniche da riempire e svuotare vedetemi e poi ripeto la genialata delle maniglie c'è tutto e oserei dire geniale in questo in questo oggetto tutto c'è appare incredibile c'è ripeto ora per noi ora per noi questo oggetto questo utensile questo attrezzo questa tanica è assolutamente come dire normale per noi assolutamente normale la conosciamo tutti le moderne taniche in plastica sono ispirate nella forma algerican lo vedete anche voi ma l'invenzione la semplicità la genialità se vogliamo di questa ripeto eccola qua guardatela guardatela un'idea semplice razionale economica intelligente molto ben progettata molto ben realizzata e dannatamente dannatamente utile la tanica il canister da 20 litri fu sicuramente uno dei motivi fondamentali del successo della wehrmacht nei primi anni perché perché ripeto la facilità d'uso cioè la facilità d'uso la facilità di trasporto la facilità di riempimento e di svuotamento due uomini da soli con una stanga ne potevano portare via due tre quattro cinque si infilava un bastone o un palo di ferro qui un uomo da una parte un uomo dall'altra cinque taniche 100 litri sei taniche 120 litri due uomini riuscivano a spostare una quantità di carburante che solitamente ce ne volevano quattro cinque persone per spostarla e credetemi che ripeto in guerra il tempo è tutto e soprattutto vediamo un po se vi ricordate che cos'è la cosa importante in guerra la cosa più importante ve lo devo proprio ripetere ve lo ricordate la cosa più importante della guerra logistica 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 perché senza carburante e senza acqua un esercito non marcia e l'idea di creare questo contenitore questa tanica fu diciamo uno dei colpi di genio del waffenland del ministero del ministero delle forniture belliche tedesche ripeto questa genialata della chiusura guardate bene guardate bene ripeto guardate bene si solleva lentamente l'occhiello è ovale l'occhiello qui è ovale quindi così rimane fermo quando apre e non cala giù vedete rimane bloccato quindi non cala giù se tu sposti la tanica vuota a rubinetto aperto per portarla al punto di riempimento rimane bloccata vedete rimane bloccata per chiuderla occorre semplicemente spostare su l'asola l'occhiello abbassarla e dare un colpetto alla leva a camma una certa differenza con tappi tappi a pressione tappi a viti rubinetto e quant'altro guardate bene quanto tempo si risparmia pensateci bene pensateci bene quanto tempo si risparmia apri eccolo scusate ripeto accidenti e storta quindi si fa un po' di fatica apri ecco apri il tappo rimane bloccato in posizione aperta riempi chiudi con un risparmio di preziosissimo tempo per ogni tanica qualcuno ha calcolato dai 30 ai 40 secondi per ogni tanica vi sembra poco no perché parliamo di mille duemila tremila 10.000 15.000 taniche per volta da riempire e quanto tempo si risparmia e ripeto quanto tempo si risparmia per trasportarne 4 o 5 con una semplice sbarra infilata qua nelle madiglie quanto tempo si risparmia a poterne impilare sul pianale di un camion 20 30 40 50 una sopra l'altra quanto tempo si risparmia quanto carburante in più puoi trasportare quanto più in fretta puoi farlo arrivare alle truppe al fronte e le truppe al fronte un una tanica così la riescono a sistemare tranquillamente fuori dal carro armato sulla jeep o sulla kubelwagen la possono tranquillamente sistemare ovunque perché sta ovunque basta semplicemente prendere che so prendere un pezzo di ferro piegarlo metterlo fuori dal bordo della kubelwagen e infilarlo qui e lo puoi mettere tranquillamente di fianco alla kubelwagen queste cose ci pensate non ci pensa mai nessuno questo è vero c'è giusto per farvi capire quanto può essere importante una piccola semplice geniale razionale ed efficiente invenzione invenzione che poi verrà copiata pari pari da inglesi e tedeschi gli inglesi quando misero le mani sulle prime jerry can presero le portarono in alcuni stabilimenti egiziani che producevano già i loro inefficaci le loro inefficaci lattine rettangolari da quattro galloni e voilà le jerry can britanniche anche queste qui costavano di meno funzionavano meglio erano più robuste erano più facili da usare eccolo e soprattutto ripeto guardate guardate la genialata il tappo non si chiude non si chiude il tappo cioè voi potete vuotare la tanica nel serbatoio senza l'impiccio di mettere il tappo da una parte senza l'impiccio del tappo che si chiude il jerry can il jerry can una delle armi migliori della luftwaffe della no della luftwaffe di tutta la wehrmacht indispensabile cioè prendete una cosa prendete i nostri poveri aerei da trasporto costretti a trasportare bidoni come quelli che avete visto prima fusti barili come quelli che avete visto prima costretti a trasportare aerei da trasporto costretti a trasportare bidoni di benzina barili di benzina barili di gasolio anche barili di acqua infusoliera poi dopo farli rotolare fuori e impilarli nuovamente fuori con un tempo di decantazione lunghissimo con questa ne prendi 100 200 300 le sbatti su un aero da trasporto una accanto all'altra una sopra l'altra la semplicità la genialità quando una cosa funziona funziona gli alleati si accorsero che funzionava gli alleati la copiarono senza farsi troppi problemi ne passarono tantissime russi anche i russi ne produssero di di loro e furono usate sono tuttora usate cioè la jerry can la jerry can in la mira in latta sono decenni che viene usata praticamente in tutte le guerre del mondo perché perché non si è trovato niente di meglio per far arrivare in prima linea acqua e carburante e senza quelli un esercito signori non si muove è un po difficile purtroppo questa questa tannica è priva di uno di un'altra genialata di un altro degli accessori ve lo faccio vedere ecco un attimo solo scusate ecco sto cercando eccolo il bocchettone aveva un bocchettone con un tubo che consentiva un miglior riempimento del serbatoio eccolo qua purtroppo questo qui manca a questo manca ma questo è il bocchettone eccolo qui questo è il bocchettone da attaccare per diciamo portare meglio il gasolio o la benzina nei serbatoi ecco qua ce n'è un esempio vedete eccolo qui questo esempio qua stanno riempiendo il serbatoio di un panzer e questo bocchettone è attaccato è attaccato qui con lo stesso incastro a leva del tappo il bocchettone veniva il tappo rimaneva indietro il bocchettone veniva infilato qui si chiudeva la chiusura era anteriore e veniva versata c'è vedete la genialata c'è vedete vedete rimane aperto dice ma 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 l'utilità risparmio di tempo praticità semplicità facilità d'uso tutto qua insomma signori wehrmacht canister da 20 litri razionalità semplicità facilità d'uso facilità di produzione e efficacia 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 un'idea semplice geniale ben pensata ottimamente realizzata tutto qua quindi cari signori adesso tocca a voi libro di riferimento in inglese e francese questo qua wehrmacht canister 20 litri ok gli autori sono francesi philippe legé e stefan acchi recuperatelo se potete a me me lo hanno portato marco mai e andrea selmi dai loro viaggi in francia voglio bene ragazzi vi voglio bene e niente cari signori vi ringrazio di tutto cuore per l'attenzione esponete come dire parlate senza problemi aspetto i vostri commenti come sempre qua sotto qua sotto qua sotto qua sotto commentate fatemi sapere che cosa ne pensate e tanto per cambiare arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao